Ha ingerito un'esca avvelenata ma fortunatamente è stato salvato Oscar, il cane meticcio di otto anni che ieri durante una passeggiata assieme alla sua padrona Lucrezia di Cartoceto in un'area verde in via Circonvalazione Kennedy ha ingerito il boccone avvelenato sotto gli occhi della donna che lo ha portato immediatamente dal veterinario. Grazie alla tempestività della padrona ora Oscar sta bene. Mi hanno chiamato dicendomi che sospettavano che il cane loro, anzi non sospettavano, si erano accorti che il cane loro aveva mangiato una polpetta e questa polpetta era diciamo bordata all'esterno di colore verde quindi avere un colore verde intenso fa pensare che ci possano essere dei veleni, insetticidi, organo clorurati, carbomati, metaldeide, veleni per le lumache. Insomma mi hanno chiamato dicendomi che il cane aveva appena mangiato una cosa del genere e io distinto come penso tutti i veterinari l'ho fatto venire nell'ambulatorio per farlo vomitare in modo tale così da eliminare subito il veleno ed evitare che possa essere stato assimilato dall'animale. Dopo avergli somministrato dell'apomorfina il cane nel giro di pochi minuti ha vomitato tutto e ha vomitato anche quest'esca per cui da lì già l'animale sicuramente si sarebbe salvato insomma non avevamo dato il tempo al veleno di essere assimilato. C'è qualcosa che si può fare, un intervento di primo soccorso che può salvare il cane nel caso mangi un boccone avvelenato? La prima cosa da fare è somministrargli dell'acqua ossigenata e l'acqua ossigenata aiuta a far vomitare il cane nel giro di poco tempo ed è un buon sistema perlomeno nell'immediato per cercare di evitare che il cane possa assimilare poi il veleno. In giornata per cercare di rinvenire i bocconi avvelenati purtroppo sparsi su alcune aree verdi del territorio è intervenuto il nucleo cinofilo antiveleno di visso chiamato dai carabinieri forestali della stazione di Cartoceto. Le esche rinvenute saranno poi sottoposte ad analisi sia da parte dell'ASUR che dall'istituto zoo profilattico. Questi sono cani che sono addestrati a cercare tutta una serie di sostanze, generalmente fanno parte del gruppo di sostanze che vengono utilizzate in agricoltura, più alcune ancora vietate da tempo tipo strecnina o altri prodotti chimici molto molto letali. Cercano il cono di odore che viene emanato o dalla sostanza chimica ma associata spesso a prodotti carni perché sono la parte attrattiva perché tanto sono rivolti o a cani o ad altri animali tipo i gatti quando ci sono questi tipo di cose in ambito urbano, altrimenti grandi predatori, lupo, orso e quindi entrano soprattutto in quegli ambienti nella catena alimentare e possono arrivare ai rapaci necrofagi piuttosto che altre specie che si nutrono in carcasse. L'accaduto va assolutamente condannato però dobbiamo anche interrogarci su quelli che possono essere stati i motivi e le cause scatenanti che hanno indotto il responsabile a fare un simile gesto, ha poi commentato il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Io credo che talvolta quella che è l'inciviltà, la maleducazione con cui i proprietari purtroppo dei nostri amici a quattro zampe abbandonano gli escrementi dei cani nelle nostre aree verdi, sicuramente qualche dinamica particolare poi possono crearla. Da questo punto di vista voglio anche dire colgo l'occasione per comunicare che l'amministrazione sta lavorando anche al progetto di realizzazione di uno sgambatoio dove però accanto possano sorgere anche delle altre attività legate alla pet therapy, al mondioring, all'orienteering e anche all'addestramento dei nostri amici a quattro zampe. Quello che vorremmo, ed è un punto fermo, è farlo assolutamente con la collaborazione di un'associazione o della cittadinanza affinché poi di lì a poco non ci possa ritrovare con un'area verde, con erba alta ed escrementi abbandonati a terra. Ed è un obiettivo sicuramente al quale lavoreremo, nel frattempo però il richiamo sicuramente è ad una maggior civiltà ed educazione da parte di tutti i proprietari degli amici a quattro zampe.